Condannati ieri dal Tribunale di Pesaro, il basista è il palo della tentata rapina e sparatoria avvenuta al Troni di Torraccia nel novembre 2018. Il primo, un uomo di 41 anni originario di Bari ma residente a Morciano, è stato ritenuto colpevole con rito abbreviato e condannato a tre anni di carcere per essere stato alla mente del colpo. Il secondo, cinquantenne sempre di Bari ma con domicilio nel pesarese, ha patteggiato due anni e sei mesi di reclusione per essere stato l'avvisatore. Assenti e non ritrovati per ora i tre esecutori materiali della rapina, colpevoli di aver sparato quattro colpi di pistola nei confronti dell'addetto alla consegna in banca dell'incasso da 30.000 euro. Il piano risale al 26 novembre 2018, lunedì seguente al weekend del Black Friday, quando, verso mezzogiorno, i tre banditi stavano aspettando su un'auto rubata il vigilante del Troni con i soldi incassati. Nel momento in cui è salito sul furgoncino è stato circondato da due rapinatori, uno dei quali ha sfondato con una mazza il finestrino del passeggero, mentre l'altro gli ha sparato per quattro volte senza colpirlo. Hanno cercato di prendere la borsa con il denaro, afferrando però quella sbagliata. Era lo zaino privo di soldi del vigilante che, seppur lievemente ferito, è riuscito a salvarsi.